Speriamo che riusciamo ad incendiare la nostra iniziativa politica perché c'è sempre la necessità di mettere in sintonia i titoli con gli atti e il titolo c'è, adesso aspettiamo gli atti, se ci sarà convergenza sarà stata una buona iniziativa ma non la si può definire a prescindere dalla verifica sugli effetti.